Il libro si intitola L'invenzione del globo, poi ha un sottotitolo che dovrebbe rendere più eloquente la suggestione del titolo Spazio, potere, comunicazione nell'epoca dell'aria. La questione sta tutto in questo elemento aereo che viene citato nel sottotitolo, perché il libro in qualche modo riprende, rilancia una tesi elaborata da Karl Schmitt in alcuni libri famosi come Il nomos della terra o terra e mare del 1942, nella quale Schmitt ricostruiva la storia della globalizzazione, a partire dalla conquista degli oceani, quando le grandi nazioni europee partono dopo la scoperta dell'America alla colonizzazione degli oceani, lì comincia la storia della globalizzazione, una storia lunga, nel senso che parliamo di una storia che comincia nel 1492 e che con una variazione di una cifra si conclude, poi dirò il perché, nel 1942. Quindi una storia lunghissima che è la storia dell'espansionismo coloniale europeo, che è la storia delle grandi scoperte geografiche, che è la storia della formazione di un mercato globale e di un sistema di industrializzazione. Karl Schmitt in sostanza si trova sulla soglia di questa conclusione epocale, quando un ordine del mondo sembra compiuto ma al tempo stesso sta per cedere. Ecco, diciamo che, adesso spiegherò il perché, ma il mio libro riprende il discorso da qui. Esistita l'epoca di una colonizzazione marittima che ha portato con sé il mercato mondiale, che ha portato con sé la formazione di grandi potenze post-statali e che è coincisa, secondo Karl Schmitt, con il triunfo del leviatano, quel grande simbolo biblico che tradizionalmente rappresenta lo Stato, ma nel caso di particolare di Schmitt rappresenta anche l'Inghilterra, in quanto il leviatano come grande balena, come animale acquatico si presta bene a descrivere in realtà l'espansionismo inglese, contrapposto ai poteri terrestri di Behemoth, quindi due animali mitici. Bene, nel 1942, quindi quando Karl Schmitt termina l'opera Terra e Mare, poco prima di incominciare quella successiva, il Nomos della Terra, quando ancora si noti l'esito della seconda guerra mondiale è tutt'altro che deciso, riepiloga questa grande storia, che è la storia del mondo che si è ormai globalizzato e la guerra mondiale ne è il suo gello, in qualche misura, in cui un ordine planetario, quello retto dall'equilibrio tra la Terra e il mare, entra in crisi definitivamente, si conclude questa prima fase della globalizzazione, Karl Schmitt è uno spettatore interessato, ambiguo naturalmente non dobbiamo nascondercelo, date le sue note compromissioni con il nazionalsocialismo, però al tempo stesso su questo crinale storico decisivo intravede qualcosa, cioè intravede che l'epoca di terra e del mare, l'epoca che ha retto la storia della statualità, l'epoca che ha retto il diritto internazionale europeo e l'eurocentrismo lì è crollato. Con la seconda guerra mondiale è venuto meno, non risorgerà mai più e si crea l'esigenza di pensare un dopo, un dopo successivo alla mondializzazione. La nostra epoca comincerebbe paradossalmente da questo crinale, cioè comincerebbe dopo la crisi, la fine dell'equilibrio tra la Terra e il mare, ho detto in termini mitologici, tra Bemoth, l'animale terrestre, il toro e invece il Leviathan, due forze storicamente in contrapposizione. E qui Schmitt, diciamo non tanto in terra e mare, ma negli scritti coni Ungari in maniera un po' più esoterica, affine al suo interesse per gli arcano imperi, inventa anche un nuovo simbolo, che è un simbolo biblico che esiste sul serio, cioè non più il potere soltanto marittimo contro quello terrestre, ma un terzo potere, entra nel 1942, intorno a quegli anni nella storia, che è il potere aereo, che Schmitt rappresenta con un terzo simbolo biblico trascurato dalla filosofia politica tradizionale, misterioso, esoterico, fascinante, che è Ziz. Cosa sarebbe Ziz? Sarebbe un animale aereo, un grande volatile di enormi proporzioni, rappresentante per Schmitt contemporaneamente del potere dell'aeronautica, del potere della meccanica, della conquista del mondo aereo e quindi anche forse delle successive viaggi di scoperta ed esplodazione spaziale, e per altro verso sulla dimensione, diciamo così, non meccanica ma elettronica, non materiale ma immateriale, cioè l'universo delle telecomunicazioni, che comincia a nascere e a dominare nuova spazialità. Allora, una terza spazialità, aerea, formata dalla meccanica del motori a scoppio e dall'elettronica, della radio, della televisione, delle teletrasmissioni, del radar, cominciano a sovrapporsi, senza risolverla, senza annullarle, al precedente storico conflitto di tra terra e mare, che, come dicevo, durante la modernità ha assunto una dimensione mondiale. Allora è possibile, dice Schmitt, ipotizzare l'inizio di una nuova fase globale, è tutto sconosciuto. Il libro prende come ispirazione questa intuizione e poi se ne va per la sua strada, intendiamoci, non intende fornire un supplemento aereo al pensiero di Schmitt, ma coglie questo spunto per tracciare una genealogia della globalizzazione che è, per così dire, successiva all'età moderna, all'età eurocentrica, all'età del diritto europeo e forse all'età della statualità, perché una delle premesse del discorso è che dove comincia quello che chiameremmo il regno di Ziz, la seconda globalizzazione, lì la statualità comincia ad entrare nella sua fase declinante. E allora, sulla base di questa intuizione schmittiana, ecco che il libro procede a guardare la questione dall'altro lato, cioè non più dal lato europeo, di un nostalgico, in fondo, dello just publicum europeum, del diritto europeo, del diritto dell'equilibrio terremare, come era Casmith, come Casmith si ritenera effettivamente, ma dal punto di vista di chi interpreta questa seconda fase della globalizzazione, cioè la scesa del nuovo impero trascurato fino ad allora che sono i Stati Uniti. E allora, il vero inizio del libro, dal punto di vista, diciamo così, storico, la sua soglia storica è l'attacco a Pearl Harbor, che costringe gli Stati Uniti a fuoriuscire dall'auto-isolamento in cui si erano posizionati in virtù della dottrina Monroe, che divideva il mondo in due emisferi separati, e comincia una fase nuova, una fase in cui gli Stati Uniti prendono con grande difficoltà autocoscienza di sé come una potenza globale, anzi come quella potenza globale che aveva dovuto sostituire le precedenti forze terrestri e marittime in una nuova dimensione, dove sarebbero stati finalmente, diciamo così, gli eredi dell'Inghilterra, la grande isola che diventa l'isola globale, ma in un nuovo elemento, in un elemento aereo. Gli Stati Uniti, dopo Pearl Harbor, intuiscono l'aria come il loro elemento, il loro elemento, il loro elemento storico, la loro grande chance per riscrivere la geografia, per riscrivere la geopolitica, per scalzare l'Europa dal suo luogo centrale in senso spirituale e geopolitico e per assumere la leadership globale. Questo io cerco di dimostrarlo attraverso elementi di geografia e di geopolitica, nella quale si mostra, mi pare, con una certa chiarezza che gli Stati Uniti devono abbandonare il precedente isolamento emisferico, abbandonare la dottrina Monroe, guardare il mondo da una nuova prospettiva, cioè da una prospettiva centrata azimutale, centrata sul polo nord, in modo tale da mostrare che effettivamente America e Europa sono un'unica formazione che sta, diciamo così, a settentrione del globo terrestre e che quindi gli Stati Uniti saranno destinati a giocare un ruolo centrale in questa fase storica. Fase storica dominata, come dicevo, non solo dalla guerra aerea che i Stati Uniti hanno interpretato come nessuno e tuttora, diciamo, incarnano il simbolo della guerra aerea, ma al tempo stesso attraverso il dominio dell'elettronica, delle teletrasmissioni, della conquista dei mercati globali attraverso le ricadute della tecnologia, della comunicazione e quindi qui si avvia, a mio modo di vedere, secondo la proposta del libro, l'età di Ziz, la seconda fase, diciamo, interna alla globalizzazione. Non è l'ultima fase, perché il cielo non è il limite, lentamente la fase, diciamo, dell'elettronica delle telecomunicazioni diventa quasi più importante di quella della meccanica, ma c'è, diciamo, in questa formazione di una coscienza di uno spazio globale. Dopo la seconda guerra mondiale, un fattore elementare di eccezionale importanza è che non più la conquista dell'aria da cui siamo partiti, ma la conquista dell'etere, cioè un elemento ulteriore che porta, da un lato, alla formazione, come diceva McLuhan, di un villaggio globale, per intendersi, che è, peraltro, è tutt'altro che una dimensione pacifica, è una dimensione, diciamo, di implosione dello spazio, di eccessiva vicinanza, senza più la produzione di distanza del globo, per un verso, e per l'altro, anche questo, qualcosa che ho lasciato nella filosofia un segno profondo, anche se non molto spesso noto, ricordato, cioè l'importanza sul diritto, sulla filosofia, sul pensiero, sull'estetica, sulla percezione della conquista dello spazio. Conquista dello spazio, cioè lo sbarco sulla luna, cioè la colonizzazione non più, diciamo, delle parti ignote della Terra, ma di parti ignote dello spazio celeste, che cambiano la prospettiva sulla Terra, sul nostro pianeta, ce la mostrano in tutt'altra luce, come Heidegger sapeva bene, per un lato concludono lo sradicamento della tecnica, da ogni dove, e preannunciano un'epoca, diciamo, di superamento della statualità, della politica, perché finalmente abbiamo davanti a noi la Terra come un'unità, come un globo, dentro il quale scoloriscono la famosa blue marble, dentro il quale la grande opposizione fra Oriente e Occidente, postpellica, cioè tra i due blocchi, diventa tutto insignificante. Il convento a lungo, queste fotografie, diciamo due fotografie Earthrise e blue marble, prese dallo spazio, fotografie molto celebri e sconvolgenti, perché per la prima volta la Terra prende autocoscienza di sé da un altro punto del pianeta e si forma, tra l'altro, va ricordato, anche un nuovo diritto, cioè non più un diritto, diciamo, così terrestre, ma un diritto extraterrestre nel quale valgono regole che sulla Terra non valgono, cioè quelle regole del diritto normativistico puro alla Kelsen valgono nello spazio, che è un luogo, diciamo, di comune collaborazione, un bene comune dell'umanità, quindi tutte le regole che valgono sulla Terra non valgono nello spazio, lo spazio insomma prende il luogo dell'utopia, per certi versi, e diventa anche il luogo, diciamo, simbolo della pace, del pacifismo, dell'ecologia, perché da lì comincia anche una nuova, diciamo, consapevolezza della globalizzazione, cioè una consapevolezza di tipo ecologico, e Lovelock comincia il suo discorso su Gaia a partire da qui, cioè tutto questo grande discorso importante, coinvolgente, su One Planet, sull'idea che esiste un solo pianeta, che sostituisce l'espressione precedente One World, che era molto, diciamo, legata al discorso americano, globalista, ma comincia invece a prendere una forma con l'idea del pianeta di tipo ecologista, comincia una nuova fase interna sempre, l'evoluzione della globalizzazione aerea, in cui il discorso ecologico comincia ad assumere una forte valenza. Quindi il libro rintraccia anche questa soglia genealogica, ma non si ferma qui, c'è infine un'ultima dimensione della globalizzazione che è, per così dire, legata alla formazione effettiva di uno spazio dell'economia, che forza anch'esso, o dell'informazione, che forza anch'esso il limite dello stato nazionale, e che descrive una geografia, di cui ho provato a rintracciare l'origine, che è una geografia fatta di flussi fondamentalmente, che attraversano i territori, che attraversano flussi di informazioni, flussi di merci, flussi di capitali, che attraversano i confini territoriali, e che nonostante le apparenze, cioè l'apparenza è che tutto sia rimasto intatto, che lo stato, l'epoca della statualità del Leviatano sia rimasta quello che era, in realtà molto cambia, cambia molto in tutto questo, perché la formazione di questo tipo di spazio lavora dentro lo stato, dentro le formazioni territoriali statali, produce forme di globalizzazione, di flussi di informazione, di scambio, quindi elabora dall'interno una nuova fase dello sviluppo del mondo globale, senza necessariamente passare, come aveva pensato Marx, dall'abolizione dello Stato. Marx aveva intuito perfettamente che la formazione di un mercato globale stava rendendo il mondo piatto, perché i prodotti per diventare merci hanno bisogno di attraversare lo spazio nel tempo più veloce possibile, e quindi aveva capito in sostanza che il capitalismo doveva abbattere le distanze, non solo in senso fisico, ma anche le distanze culturali, le distanze sociali, perché tutte queste distanze allontanano il prodotto dal suo condizione di merce, cioè dal mercato di scambio, e quindi il capitalismo tende a produrre uno spazio liscio, fondamentalmente, e usa tutti gli strumenti del caso, quindi strumenti meccanici, strumenti elettronici, strumenti materiali, per rendere lo spazio liscio e scivoloso, privo da trito. Quello che non aveva potuto forse immaginare dal suo angolo visuale era che invece si sarebbe potuto realizzare forme di cosmopolitismo economico, ma anche culturale e antropologico persino, senza necessariamente rinunciare alla statualità. Certamente la sovranità dello Stato è in forte crisi, nell'epoca storica di cui sto descrivendo la genealogia, in parte della storia, che incrocia mezzi tecnici come l'evoluzione di internet, ma non finisce, nel senso che ne è un elemento. La statualità diventa un elemento di una nuova geografia economica che comprende al suo interno altre realtà, per esempio elementi di città globali, come le chiama la sociologia contemporanea o di città regione, globali, che sono quasi competitive rispetto allo Stato. Insomma nasce una geografia più complessa. Il discorso che cerco di elaborare non è che l'epoca dell'aria significhi di per sé l'abolizione della statualità e l'appiattimento del globo in una dimensione omogenea e indistinta. Tutto il contrario, anzi, diventa una spazialità molto più complicata, anche perché questi elementi, quelli aerei terrestri che esistono, perché il nostro corpo abita dentro lo Stato, dentro la politica, è ancora soggetto alla forza della polizia, deve pagare le tasse nello Stato. Quelli del mercato mondiale marittimo e quelli di un mercato di una dimensione invece più aerea, eccetera, si combinano fra di loro, ma anche in modi spesso conflittuali, schizofrenici, difficili da elaborare. Questa è la sfida storica che ci si può davanti. Quali unità politiche, quale nomos della Terra è all'altezza di questa complessità dei fattori elementari che vengono a comporre lo spazio, ad aggregare lo spazio contemporaneo. Per concludere, ci sono tre appendici. Il libro non fornisce probabilmente una risposta adeguata alle questioni che solleva. Del resto sono questioni difficili a cui rispondere. Tre possibili aperture del discorso. Una che riguarda l'Unione Europea, che ha un problema di enorme portata, cioè comprendere sostanzialmente qual è il ruolo dell'Unione Europea in questo tipo di spazialità. Se può essere una risposta geopolitica efficace alla crisi della spazialità che stiamo attraversando. C'è un appendice che descrive la complessità dello spazio dell'aria discutendo del drone. Il drone diventa quindi un simbolo della rottura, della metafisica della compresenza alla guerra. Il fatto è che i competenti devono essere presenti, compresenti l'uno agli altri. E quindi diventa un simbolo della complessità spaziale, della distruzione del teatro simultaneale di tempo e spazio, per dirla con Aristotele, in cui si gioca la rappresentazione spaziale della commedia e della tragedia umana. L'ultimo appendice invece riguarda l'11 settembre perché non per raggiungere un'ennesima glossa a questo evento storico nella quale facilmente riconosciamo l'origine della nostra storia più recente, dei problemi che si riguardano un po' di vicino, ma perché era da un lato difficile non concludere un libro che ha a che fare col tema dell'aria con una riflessione circa quella che si potrebbe definire la seconda per Harbour, cioè il secondo attacco aereo al territorio dei Stati Uniti che ha generato tutti quei fenomeni geopolitici, quei terremoti geopolitici che arriva fino alla Siria, quindi arrivano fino ai giorni nostri, questo da un lato e dall'altro con una riflessione sulla neo-isolazionismo dell'Inghilterra e degli Stati Uniti. Quindi l'idea che in sostanza l'età dell'aria, la sfida rappresentata da questa fase della globalizzazione comporti di alcuni effetti non previsti, come per esempio il tentativo, magari coronato da poco successo, del tutto insensato, ma significativo in sé, di ritrarsi da questa fase storica per tornare a forme precedenti della globalizzazione, di cui sappiamo che quello significano, ma non sappiamo dove possono condurci. Grazie. 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 Grazie.